Entra in comune con l'avvocato e non mostra il Green Pass, il dipendente dovrà pagare 1200 euro di multa ma non demorde, è illegale, leggete le norme e aprite gli occhi, ha detto le regole imposte dai DPCM non rispettano le persone. Evade il fisco per oltre 55 mila euro, imprenditore condannato in via definitiva, la finanza di Fano sequestra beni e denari. Comitato dei familiari della Don Tonucci, l'assessore Tinti interviene dopo le lamentelle sul ritardo del regolamento e assicura che questa sera verrà approvato in giunta. Tecnologia, innovazione ed eccellenze del territorio, la regione Marche continua a far conoscere le sue imprese, le tipicità al mercato internazionale grazie all'Expo di Dubai. Invecchiamento precoce, combattere lo stress e la glicazione, ecco che cosa fare, come cuocere i cibi per prevenire macchie, rughe e problemi cardiovascolari. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli, il dipendente del comune di Fossombrone che era entrato in municipio insieme al suo legale dovrà pagare 1200 euro di multa per non aver mostrato il Green Pass, ma Raffaele, questo il suo nome, non demorde e ribadisce le sue critiche contro il governo e la gestione della pandemia. Era entrato nel comune per cui lavora o meglio lavorava per chiedere spiegazioni sull'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. Raffaele Conti, dipendente dell'amministrazione pubblica dal 2010, si era recato nel municipio di Fossombrone il 2 febbraio scorso insieme all'avvocato Iveta Marinangeli. Avevano parlato con il responsabile di settore ed era intervenuta anche la polizia locale che aveva chiesto al 42enne di esibire il certificato verde. Chiunque si incarica di visionare un Green Pass è illegale, aveva dichiarato Raffaele. La richiesta del trattamento dei dati sanitari, aveva poi spiegato il suo legale, deve essere autorizzata dal Ministero della Salute. Raffaele, dopo l'accesso in municipio insieme al suo legale, che cosa è successo? Praticamente mi hanno diffidato dal poter rientrare negli ambienti di lavoro e anche in seguito a questo, quelle due giornate che ho cercato di prendermi quello che è di mio diritto, perché è sancito dalla Costituzione al primo articolo e all'articolo 4, mi hanno praticamente fatto arrivare due verbali da 600 euro l'uno, comunque emessi dal comune, cosa che a quello che dice l'avvocato non avrebbero neanche tanto potere di farlo. Lei è piuttosto critico rispetto alla gestione dell'emergenza sanitaria, che cosa contesta? In Italia, in Costituzione, nelle varie leggi non è mai previsto un'emergenza sanitaria, se non altro di questo tipo, pandemico, che comunque è stata legiferata a partire dalla testa, per cui dal governo, con DPCM, per cui andando veramente con uno strumento senza dibattito, mi viene da dire. Nello stesso tempo questo genere di emergenza, se mai ci fosse il caso, cosa che non c'è, andrebbe gestita a partire dai comuni, dal piccolo territorio, con dei limiti temporali, dei limiti anche territoriali, dopodiché alle province, alle regioni e su via fino allo Stato, quando i livelli di questa emergenza sono elevati, cioè con molti morti, molti morti visibili anche nella realtà e non solo raccontati. Pensa che ci sia un'eccessiva cautela rispetto alla fase attuale dell'emergenza? Assolutamente sì, nel senso che questo è già visibile a tutti quanti, perché per strada incontriamo molte persone all'aria aperta, sole, con la mascherina FFP2 ben tirata su, quando è già qualche giorno che questa regola non c'è più, per cui non è stata recepita dalle persone. Questo si vede anche, per esempio, in questa notizia molto importante, dove una dirigente scolastica lascia fuori una classe perché non ha la mascherina FFP2. In realtà qui sembra che ci sia una voglia personale, individuale, di negare al prossimo quello che abbiamo di fronte, i suoi diritti fondamentali. Ecco, come sta trascorrendo le sue giornate, visto che è ancora a casa senza lavoro e senza stipendio? Beh, sicuramente sto leggendo molta normativa e vi sto arrabbattando in qualche lavoretto per guadagnare qualche soldo. Nello stesso tempo cerco di coinvolgere molto le persone intorno a me, sto facendo un corso di potenziamento spirituale per poter dare alle persone questa sveglia perché vedano la realtà. Perché la normativa oggi è tutta illegittima, non sta dentro le regole assolutamente, però è stata recepita dai cittadini. Per quale motivo questo? Non conosciamo le regole. Ad esempio la Costituzione italiana e i suoi articoli che sono importanti, per cui sono molto di più, secondo me, le persone che vivono nel nostro territorio che fanno l'ambiente in cui viviamo e non sono tanto le regole che tra l'altro stanno dimostrando di non rispettare più le persone. La regola deve aiutare, se la regola non aiuta più non è una buona regola. Andranno tutti a processo i nuovi imputati del filione amministrativo relativo alle condizioni di sicurezza e ai permissi per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, avvenuta la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, quando morirono 5 minorenni e una giovane mamma schiacciati dalla calca. Tra i rinviati a giudizio anche il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, la decisione è arrivata al termine dell'udienza preliminare che si è tenuta al Tribunale di Ancona. Le accuse, cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale. Finalmente può iniziare il processo, ha commentato l'avvocato Irene Ciani, parte civile per i familiari di una delle vittime, Benedetta Vitali. Per altri 7 imputati dello stesso filone si sta già procedendo con il rito abbreviato e l'accusa ha già chiesto 5 condanne e 2 assoluzioni. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Fano su disposizione della Tribunale di Pesaro ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, beni e utilità fino alla concorrenza dell'importo di oltre 55 mila euro nei confronti di un evasore totale. Si tratta di un imprenditore denunciato e poi condannato in via definitiva per fattispecie criminose connesse appunto a reati tributari. Cambiamo argomento. Dopo le lamentele dei familiari che hanno costituito il comitato legato alla residenza per anziani Don Paolo Tonucci, oggi è intervenuto l'assessore Dimitri Tinti che ha spiegato i motivi del ritardo assicurando che la delibera per la presa d'atto del regolamento atteso dai familiari è stata inserita per essere approvata nell'ordine del giorno della giunta comunale proprio di questa sera. Un po' dispiace sentire che non c'è stato dialogo, che non c'è stato ascolto da parte dei servizi sociali perché io ho altri riscontri. L'ultima mail perché c'è stato anche un contatto anche abbastanza frequente risale all'8 febbraio con alcune correzioni sul regolamento di funzionamento per il comitato. Noi abbiamo sempre accolto il comitato che tra l'altro è previsto nella carta dei servizi, carta dei servizi che abbiamo dovuto aggiornare nel maggio 2021 come correttamente riportavano proprio perché è cambiato nel frattempo il regolamento dell'ambito, il Tursa si chiama, e loro poi hanno costituito così dalle loro comunicazioni ufficialmente il comitato nel luglio 2021. Ricordo che poi dopo nel luglio, agosto e settembre nel frattempo gli uffici sono stati impegnati nella procedura di gara per la gestione della residenza protetta Don Tonucci. Quindi abbiamo fatto con loro un incontro in presenza a metà ottobre nel quale incontro ci eravamo presi alcuni impegni e appunto con la bozza di regolamento che loro ci hanno dato prima in maniera informale, poi l'hanno protocollata a gennaio, ci sono state un po' di correzioni e di una condivisione con gli uffici, come è naturale che avvenga. Quando passerà in giunta? Passerà in giunta sera, la prossima giunta noi di solito la facciamo giovedì, ma da domani è giovedì grasso, quindi siamo la città del carnevale, in quel periodo non ci sono giunte o consigli, la portiamo questa sera, era già pronta da qualche giorno, era già all'ordine del giorno, sarà efficace da stasera, il comitato dei familiari sarà di fatto operativo, con loro continuerà ad esserci come in passato, anche prima della costituzione del comitato massimo dialogo, massima collaborazione e disponibilità ad organizzare qualsiasi iniziativa ed accogliere le loro richieste, tra cui ricordo anche quella bella che ci hanno proposto proprio loro della stanza degli abbracci durante il lockdown, che era un modo per ritrovare un contatto umano con i loro cari. Approvata in consiglio regionale la mozione a firma di Rossi e Baiocchi sui biodigestori di Barchi e Vallefoglia, due impianti differenti che negli ultimi mesi hanno sollevato tante proteste. La mozione, ha spiegato il consigliere di Civici Marche Giacomo Rossi, chiede alla provincia di approfondire attentamente tutte le criticità presentate dai cittadini, comuni e associazioni di categoria su questi impianti, ma anche di promuovere la sensibilizzazione verso l'autocompostaggio domestico e di comunità. Questi due impianti privati, aggiunto Rossi, nell'insieme superano di gran lunga il fabbisogno che richiede il nostro territorio. Noi non siamo per i no a prescindere, né tantomeno contro i biodigestori, ma siamo a favore di opere pianificate, fatte bene e che servono alla collettività. A Fano sono stati attivati i primi servizi offerti dal Paricentro, lo spazio dedicato alle pari opportunità che si occupa di donne emigranti, consulenze legali e lavoro aiuti anche per la lettura della busta paga e per l'analisi del contratto. Servizio di Filippo Pucci. Decolla l'attività del Paricentro, lo spazio inaugurato nei mesi scorsi nel cuore del centro storico di Fano e che ora apre alla comunità i primi sportelli. lo staff dell'accoglienza, il sito e le modalità d'accesso. Abbiamo sempre lavorato, ha dichiarato l'assessore alle pari opportunità, Sara Cucchiarini affinché questo spazio fosse un riferimento al sostegno delle donne e di tutte quelle persone verso le quali le diseguaglianze, anche amplificate dalla crisi pandemica, ricadono quotidianamente. Con questo percorso avviato nel 2015, questo luogo oggi è pienamente operativo, con l'offerta di una serie di attività finalizzate ad abbattere le differenze. Vogliamo fare di questo centro, ha detto poi l'assessore, la casa dei diritti in cui le persone si sentono accolte, protette ed ascoltate. Due sportelli, uno si occuperà dell'aiuto, dell'inserimento delle donne straniere in tutto il percorso per l'ottenimento dei permessi della cittadinanza. Un altro invece sarà di sollievo per quelle donne in cerca di occupazione o che possono comunque subire discriminazioni sul luogo del lavoro. Gli sportelli curati della CGL saranno il martedì, mentre invece il lunedì pomeriggio sarà dedicato a un'attività anche molto richiesta che è quella di consulenza legale, uno sportello di prima consulenza legale gratuito erogato dall'associazione neonata, da queste sette avvocate, se ne stanno comunque già avvicinando altre, con diverse professionalità che si occuperanno appunto di erogare questo sportello di prima consulenza legale gratuito. voglio ricordare che l'associazione si chiama Diritti al Centro. Presentate anche le operatrici dell'accoglienza che gestiranno le attività del Pari Centro. Lo staff si affiancherà anche ad altri servizi erogati dal Comune, come quello che riguarda l'aiuto alle donne per la compilazione dei curriculum. Oggi abbiamo anche comunicato quelli che sono gli orari di apertura. Iniziamo con un'apertura 6 giorni su 7, tutte le mattine dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato, sabato mattina compreso, e il pomeriggio invece dalle 15 alle 18 il martedì e il giovedì e dalle 15 alle 20 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Abbiamo presentato anche il sito che è paricentro.it nel quale ci sono la possibilità di presentare, di prenotare tutti gli sportelli, quelli di oggi sono solo i primi tre, ce ne saranno anche altri e sarà possibile anche avere tutte le informazioni per l'accesso al centro, per richiedere gli spazi, per le associazioni, per chi vuole comunque utilizzare questi spazi anche come spazi espositivi e tutte le indicazioni le potranno trovare lì nel sito paricentro.it oppure venendo fisicamente qui o chiamando al numero 0721-887-385. Diamo spazio alle vostre segnalazioni. Un reporter di strada ci ha segnalato una buca grossa e pericolosa all'altezza della rotatoria di Bellocchi che conduce anche in superstrada e lì da più di un anno ci ha scritto ma il comune se l'è proprio dimenticata. Invece in via viaggi a Cucurano, quindi ci spostiamo di quartiere, è caduto il coperchio della plafoniera del Lampione, come ci ha riferito una telespettatrice, pare che sia lì a terra da tre settimane. Torniamo all'Expo di Dubai dove le scuole e le imprese marchigiani hanno presentato i loro prodotti tra tradizione e innovazione. Tra le eccellenze delle Marche Dubai c'è anche una scuola. L'Istituto Galilei di Iesi si trova infatti all'Expo per un evento al quale hanno preso parte 800 giovani scienziati da più di 30 paesi provenienti da tutto il mondo. Ieri mattina la delegazione istituzionale della Regione Marche, guidata dal vicepresidente Mirko Carloni e alla quale si sono uniti anche l'assessore al bilancio Guido Castelli e del consigliere regionale Carlo Ciccoli, ha fatto visita agli studenti per vedere le quattro progettualità nei settori chimico e ambientale, selezionate nell'ambito di un concorso accreditato dal MIUR e denominato I Giovani e le Scienze. Il Galilei era presente con 12 studenti accompagnati dal dirigente e due professori, diversi poi gli appuntamenti proposti dalle aziende marchigiane che partecipano all'Expo. Il presidente Acquarolli ha voluto assegnare un ruolo strategico, la proposta turistica delle Marche, una regione bellissima, meravigliosa, ma che ancora fa registrare, questo è il dato degli anni scorsi, una presenza turistica prevalentemente nazionale e domestica. Siamo a Dubai per questo, stiamo sviluppando un'agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione che ha prevalentemente questo scopo, quello di realizzare politiche integrate perché il turista del mondo possa incrociare il destino delle Marche. Da questo punto di vista molte sono le suggestioni su cui stiamo lavorando in tutte le latitudini del mondo, ma quello che è più importante è estrarre la massima percentuale di valore economico da questa campagna promozionale per le Marche. Questo vuol dire unire anche la bellezza con il prodotto, da questo punto di vista tipicità è per l'appunto una di quelle associazioni che ha lo scopo di interpretare e declinare proprio quella che è una proposta articolata, che crea turismo e crea prodotto interno lordo. La settimana delle Marche all'Expo sta confermando le alte potenzialità della regione in ambito internazionale. Portiamo a Dubai, ha sottolineato il vicepresidente, l'eccellenza delle Marche con il nostro nuovo brand Land of Excellence. I prodotti proposti dalle nostre aziende dimostrano che siamo una regione che fa dell'innovazione e della sostenibilità il proprio credo a livello trasversale in tutti i settori, grazie alla capacità di coniugare la tecnologia più avanzata con la tradizione che appartiene ai nostri imprenditori. Tra loro anche Valerio Placidi di Grottini Lab, un'azienda con sede a Porto Recanati che crea ed elabora dati per aiutare le persone a prendere decisioni in maniera più accurata a seconda della tipologia di azienda e dei risultati che si vogliono raggiungere. Noi siamo qui come partner del progetto Trust e proprio per questo io ci tengo a ringraziare la regione Marche che ci ha permesso di organizzare questa missione, così come l'Università di Macerata e tutti i partner del progetto con i quali stiamo cercando di costruire qualcosa insieme. Questo è stato uno dei messaggi che abbiamo cercato di mandare. Costruire qualcosa insieme significa costruirlo insieme, significa fare squadra perché soltanto così riusciamo ad essere più grandi, soltanto così riusciamo ad essere più competitivi e ad andare su tutti i mercati del mondo. Presente ieri anche Stefano Parcaroli di Med Group Holding, il polo dell'innovazione. In questo contesto abbiamo presentato un concetto a nostro avviso innovativo che è quello di FIGIVERSE che è un mix tra mondo fisico e mondo digitale, quindi non tanto Metaverse come ricostruzione di mondi virtuali ma visto che viviamo in un mondo bellissimo, la nostra Italia lo è ancora di più e visto che abbiamo molta storia, molta cultura e grandissimi Atenei che ci possono permettere di creare contenuti molto innovativi e di grandissimo prestigio noi parliamo di una realtà virtuale basata sulla realtà reale come ricostruzione della realtà reale nella quale andare ad aggiungere poi tutti i contenuti, tutti i servizi del mondo digitale. Troppi zuccheri e grassi nella nostra dieta possono contribuire ad accelerare il processo di invecchiamento precoce e questa sera l'esperto Francesco Lampugnani ci dirà come prevenirlo ma anche in che modo cuocere i cibi per allimitare le sostanze tossiche. Sentite. Combattere lo stress metabolico e far attenzione alla glicazione e questa è la prima regola anti-invecchiamento spesso sottovalutata troppi zuccheri nella nostra dieta possono contribuire ad accelerare il processo di rughe, macchie sulla pelle e seri problemi di salute. Dottore che cosa si riferisce con il termine AGE? Perfetto, allora AGE è legato ad un processo che si chiama glicazione e altro non è che un processo che prevede il legame tra degli zuccheri sia intra che extracellulari con delle proteine. Questo legame genera delle molecole alterate e malfunzionanti definiti appunto AGE che è l'acronimo di Advanced Glication and Products, prodotti avanzati della glicazione. Gli zuccheri interessati, ha spiegato il nutrizionista Francesco Lampugnani, sono il glucoso e il fruttoso e per il fatto che questo processo non preveda la presenza di enzimi significa che i prodotti derivanti tendono ad accumularsi. Quindi vanno tenuti in debita considerazione e questi prodotti ahimè sono molto tossici come vedremo adesso nel corso del... E hanno una correlazione anche con l'invecchiamento? Esatto, allora AGE ed invecchiamento in generale praticamente sono molto ma molto legati guarda caso il termine AGE coincide con il termine AGE, sempre scritto AGE che in inglese significa invecchiamento e l'altra parola molto usata ultimamente, anti-aging, capita proprio a proposito. Non si può parlare di longevità, ha proseguito l'esperto, senza una riduzione di questo processo metabolico infatti numerose evidenze scientifiche stanno portando a correlare danni causati dal processo di glicazione alla graduale perdita di elasticità del collagene. Il risultato è la perdita di elasticità da parte di numerosi organi e come spesso si verifica con l'età che avanza, cuore, vasi, occhi, articolazione, tessuto nervoso e pelle. L'ultima è la pelle che tende ad essere più ispessita con più rughe ma la cosa più importante da avere in evidenza come obiettivo è il nostro apparato cardiocircolatorio che ne risente maggiormente. Gli AGE possono essere assunti con l'alimentazione ma vengono anche prodotti dal nostro organismo sebbene in quantità ridotte. Quelli dall'esterno purtroppo sono quelli che fanno più danni. In primis c'è il fumo di sigarette e poi l'utilizzo di una serie di alimenti chiamati veramente in causa molto prepotentemente tipo la carne rossa, la carne di maiale ma altre cose importanti sono proprio i metodi di cottura. La cottura qui non mi stancherò mai di stressare chi è vicino ai fornelli e quindi si prepara anche da mangiare. Bisogna tenerla a livelli molto bassi. La famosa reazione di Maillard che tende a produrre queste sostanze una volta superati i 120 gradi è sempre in agguato. Per cui tradotto, evitare cotture che prevedono l'utilizzo di alte temperature come la brace, le fritture, l'imbrustolimento dell'alimento, l'imbrunimento c'è tutto quel marroncino, quel bruciacchiato che ahimè a molti piace purtroppo è molto tossico. Bisogna optare al contrario per metodi di cottura che tengono la temperatura più bassa come la bollitura, il vapore, il cartoccio, l'umido ma non solo. Quindi preferire la frutta fresca, le verdure fresche, tenere bassi i livelli di glucosio e ridurre molto l'assunzione di zuccheri e zuccheri semplici, i dolci praticamente che tendono a mantenere la glicemia sempre un po' più alta. Fortunatamente è stato messo a punto, è stato ritrovato la carnosina che è un di peptide cioè ci sono due amminoacidi che è presente anche nella carne ed è dimostrata una valida sostanza di aiuto come antiglicazione. L'altra situazione importante è avere a disposizione da poco uno strumento molto ma molto interessante e avveniristico mi consenta che permette di valutare la presenza e la tipologia di questi age nell'organismo con una semplice rilevazione poggiando il braccio appunto su questo strumento. Una luce a fluorescenza mi va a leggere nel connettivo e nelle arterie e nelle vene e mette in evidenza il valore di questi age. Quindi si può fare prevenzione. Io nel mio studio ho iniziato perché ho avuto piacere di prenderlo e quindi è a disposizione dei pazienti per quanto riguarda questo tipo di prevenzione. Sarà Passaggi Festival ad ospitare la prima presentazione italiana del romanzo Flama dello scrittore albanese Tom Cuca, vincitore del premio dell'Unione Europea per la letteratura 2021. L'appuntamento andrà ad arricchire la decima edizione dell'evento che si svolgerà a Fano dal 20 al 26 giugno. Il romanzo uscirà in Italia a maggio per Abbesa Muci, editore, e sarà uno dei titoli di punta della rassegna Europa-Mediterraneo dedicata alla narrativa straniera. Enkel Demi, questo è il vero nome di Tom Cuca, è autore pluripremiato e popolare giornalista albanese ed è legato a Passaggi dalla scorsa edizione quando presentò a Fano la sua prima opera edita in Italia. Insieme con l'annuncio della presentazione di giugno, Tom Cuca ha inviato al Festival un suo racconto inedito che è possibile leggere sul sito di passaggifestival.it E adesso apriamo l'album di Fano TV perché questa sera facciamo gli auguri a Giacomina Muzzani e a Bartolo Cristofanelli, residenti a Colli e a Metauro che oggi festeggiano ben 59 anni di matrimonio. Auguri da parte di tutti i familiari e dallo staff di Fano TV. Vi annuncio intanto che lunedì sera a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. Invece tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato all'Aglione, un prodotto funzionale che offre anche delle importanti opportunità di coltivazione per imprenditori e non solo. Quindi buona serata con i nostri programmi, l'informazione torna domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti che leggerà insieme a voi i quotidiani. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie.